Cristian si avvicina a questa partita con la SPAL, bisogna dare però continuità a quanto ha fatto vedere col Cittadella. Assolutamente sì, abbiamo fatto una grandissima partita con il Cittadella, ora questa vittoria ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi, andiamo a Ferrara per continuare così su questa strada perché altrimenti non abbiamo fatto niente, quindi io mi auguro di fare una grandissima prestazione come quella contro il Cittadella. È il momento anche di riprendersi il posto da titolare? Io ogni allenamento do il massimo, poi il mister sarà a decidere se farmi giocare oppure no, io quello che posso fare è dare il 100%, poi deciderà il mister. Sullo scherzo che c'è stato abbiamo sentito la campana del mister, ora abbiamo anche l'opportunità di sentire te, ecco è stato tutto risolto, nella nostra trasmissione l'altra sera il mister ha detto Galano probabilmente è colpa mia se non ha reso da un punto di vista tecnico perché non lo faccio accendere con la posizione in campo, da parte sua però a livello di determinazione e agonismo bisogna diciamo pretendere di più. Qual è la tua versione? Il mister magari ora stiamo facendo un modulo nuovo che magari io non ho mai fatto, quindi cerco sempre di fare quello che mi dice il mister, poi a volte ci riesco, a volte ci riesco meno, però io penso che non è vero, penso che il mio atteggiamento è sempre ottimo, penso che ogni allenamento dodo sempre il massimo, poi magari deciderà il mister se farmi giocare oppure no, io cercherò sempre di dare il massimo fino a quando starò qua, poi sarà lui a decidere. Tutto risolto col mister? No, assolutamente sì, assolutamente, nessun problema con il mister. Ti trovi Pasquale Marino, che ricordi hai di lui? Beh, il mister è una grandissima persona e un grandissimo allenatore, sono stato benissimo con lui a Vicenza, ora me lo ritrovo come avversario e spero di fargli un dispetto, dai. A Ferrara per riprendere quella marcia interrotta col Cittadello ma soprattutto per iniziare a scalare la classifica? Ma assolutamente, assolutamente, noi siamo una squadra che purtroppo all'inizio abbiamo avuto dei problemi perché come ho detto prima, tre infortuni, poi moduli nuovi che comunque dobbiamo ancora capire, ora spero che questa vittoria qua ci dà un grandissimo morale, e come ho detto prima andiamo a Ferrara per farci, per iniziare, anzi, già spero che la partita con Cittadella possa darci una spinta in più e scalare questa classifica perché non siamo da quel posto in classifica, ecco, perché comunque la squadra è un'ottima squadra, ripeto, ora senza punte comunque era difficile, ora abbiamo senso, se a Terra mi dispiace che sia infortunato, ora c'è senso che ci può dare una grossa mano, quindi speriamo di fare un grande campionato da ora in poi. Quanto ti manca il primo gol in questa stagione? Beh, assolutamente tanto, lo ammetto, lo ammetto, però come ho detto prima è normale, ho avuto delle difficoltà a livello magari tattico, però spero di sbloccarmi il più presto possibile e di iniziare a regalare soddisfazioni a questa gente, a questa piazza, a questa società.